Incrociare le braccia sulla testa come essere stati ammanettati è il gesto che gli è valso due anni di esilio negli Stati Uniti. Ai giochi di Rio de Janeiro, l'atleta etiope aveva segnalato la sua opposizione alle autorità del suo paese e la repressione della minoranza a Romo. Questa domenica il maratoneta è tornato nella sua terra per la prima volta. Sapevo che quel giorno sarebbe arrivato, spiega Faiza Lilesa, perché sapevo che il sangue di tutte quelle persone non sarebbe stato versato in vano. D'aprile il nuovo governo etiope ha adottato misure per rilasciare i prigionieri politici e le organizzazioni politiche di Romo non sono più considerate alla stregua di terroristi.